Il sindaco Pierenzo Muragli ha chiesto ai volontari del Consorzio Saie della Marza altre 24 ore di tempo per la produzione dei documenti che attestano la demanialità dei canali di scolo. Ma i volontari non hanno più voglia di aspettare e proprio in queste ore stanno valutando le azioni da intraprendere, non escludono l'occupazione del comune. Nel fine settimana scorso la loro portavoce Silvana Bicego aveva innescenato l'occupazione del comune fino a quando nel tardo pomeriggio di giovedì non sono intervenuti i militari della compagnia di Modica e lo stesso sindaco a cercare di farla desistere impegnandosi quest'ultimo ad una risoluzione della questione entro oggi. Nella stessa mattinata dopo l'ennesimo tentativo di ripulire un canalone, la Bicego era stata vittima di un'altra aggressione, evento che ancora una volta ha portato all'esasperazione degli animi. I volontari dicono di essere stanchi di aspettare una risposta che attendono da troppi anni. Dall'altro lato l'ente rappresentato nello specifico dal commissario straordinario Bellisario sembra sposare la causa dei volontari, ma si attende che da un punto di vista della documentazione tutto sia in ordine prima di intervenire. Insomma per oggi si prevede un altro, l'ennesimo braccio di ferro sui canaloni della Marza.